gian felice facchetti che ho avuto l'onore di averlo ospite sul canale c'è la live date ricercarla gian felice facchetti dice sogno sogno che finisca questa melina la repubblica di milano lo scrive sogno che finisca questa melina e che l'inter dica li vogliamo rimanere a san siro e fare una ristrutturazione simile a quella del bernabeo queste sono le parole di gian felice facchetti ho avuto il grandissimo onore onore di averlo ospite sul mio canale qualche mese fa sono d'accordo con te gian felice ragazzi la voce di sanchez allora io sono d'accordo con tutto quello che poi dopo può portare al bene dell'inter no perché poi si scherza si ride io rimango comunque della mia idea che quest'anno secondo me la situazione va presa con un po più di leggerezza anche perché sappiamo tutto che i cinesi ormai ha sparecchiato sta andando via ormai scrivono si sono svegliati tutti anzi buongiorno e ragazzi anche a tutti i giornali quelli importanti buongiorno ragazzi perde rischia di perdere l'inter non sa come per rifinanziare buongiorno a tutti cose qui in questo canale diciamo da più di un anno comunque a parte questo e si parlava di sanchez e sì allora sanchez allora se io vedessi qualora io vedessi tornare sanchez non non mi meraviglierei non sarei meravigliato anche se è stato pagato per venire all'inter pagato per andare a giocare da un'altra parte e fare 18 gol perché il signor sanchez è andato a marsiglia ragazzi e ha fatto 18 gol e 6 7 assist quindi te mi devi dire il ballerino che è correa te mi devi dire il ballerino cosa ha fatto quest'anno il ballerino te lo dico io cosa ha fatto da quando è arrivato all'inter inter verona o verona inter non mi ricordo comunque la partita era contro gli scaligeri è arrivato ha fatto una doppietta poi per otto mesi è sparito non ha fatto più nulla da lì tutti i golletti inutili ha fatto due tre gol in due anni un 4 a 0 un 6 a 1 in amichevole un cross dopo 70 minuti non mi ricordo in quale partita quindi sanchez rispetto a correa è di un altro livello se poi per dire non è un discorso di dissing perché qui c'è gente che non difende l'inter ma che difende zang perché comunque il loro interesse è difendere solo ed esclusivamente zang gente ti diceva i gol senza un upgrade di perisic e c'è anche stata gente sto parlando di severino severino ti diceva io ho tutto nella chiavetta ragazzi non si scherza severino ti diceva anche che correa era un upgrade di sanchez ma severino apre una parentesi concedetemela severino ad un certo punto cioè quando parla lui cioè se lui ti dice che succede a succede b perché non ne becca mai una no severino è talmente sfortunato che incominciò visto lui pensa di essere anche famoso ma non lo riconosce nessuno incominciò a sponsorizzare un ristorante vi ricordo no incominciò a fare le recensioni di un ristorante sapete lo rifò il video no non lo rifò non lo rifò severino per un periodo insomma te la fa breve incominciò a sponsorizzare un ristorante perché lui pensa di essere bello e famoso non entra in telecamera ma lui lui pensa di essere anche un bel ragazzo per l'amor di dio io non lo sono ma non è nemmeno lui quindi severino incomincia a sponsorizzare sto ristorante vuoi sapere fino a fatto per fartela breve ha detto una ragazza su instagram ristorante è fallito quindi e quindi rimettiamo da una parte severino perché poi lui ci va pesante ha offeso anche mia moglie attenzione per quello io ogni tanto gli rispondo non entrare è che sto facendo un video perché squadra tifi non mi ha sentito c'è un problema sommer si complea perché il buyer non ha trovato ancora il sostituto quindi il buyer allora forse ragazzi bisogna allora bisogna essere realisti noi siamo a 90 gradi davanti al buyer gli abbiamo chiesto 80 rate per un portiere di 35 anni abbiamo chiesto 80 90 mila euro di sconto ma noi faremo quello che ci dice il buyer se vuoi sommerti fai quello che ti dice il buyer perché il buyer ti sta prendendo per un accattone lo ha pagato 10 milioni qualche mese fa perché te lo deve regalare a 4 milioni se a maggior ragione non ha trovato nemmeno il secondo portiere dimmi perché il buyer ti deve facilitare quindi vuoi sommer sommer si complea ragazzi non riescono a trovare un portiere stanno pensando di tenerlo vai e guarda cosa dice dove è sommer sommer dove sei non c'è sommer ragazzi per quello riguarda l'attaccante a me mi chiedete beto oscamarca è come se tu mi dicessi vuoi una pedata nel sedere uno schiaffo cioè cosa ti devo dire tra i due guarda tra i due scelgo beto va bene perché c'è il nome più corto scelgo beto anche se ma perché sono operazioni fattibili dove vuoi andare all'estero te con i cinesi a garantire per 40 35 45 milioni ma dove vuoi andare hai preso turam grazie a ausilio e sono due anni che gli è dietro al zero ma dove vuoi andare all'estero a comprare i giocatori a 30 35 40 non hai le garanzie finanziarie per farlo anche se hai i soldi in cassa lo sanno e sei messo malissimo quindi secondo me verrà un attaccante se andate ora io sono andato a fare un giro no mi diverto a volte sono sotto l'ombrellone questi giorni sono andato a vedere scamarca in poll guarda notizia ora dell'ultima ora ma in poll in poll io questo ve lo ridico in poll andrà all'attaccante più prendibile un più pagherò con più prestiti perché scamarca in west ham se ne vuole liberare lui ha fatto ridere ed è stato anche contestato dai tifosi ecco perché forse puoi prendere scamarca in prestito da west ham capito peto stesso discorso con peto metti dentro due tre primavera o mai fatto con samaric a parte ragazzi ve lo dico io ancora samaric non l'ho visto fino a che non lo vedo non credo perché se no vi devo ricordare diballa bremer che avevano già comprato casa a milano secondo qualche uno è attenzione quindi io io samaric ce lo voglio vedere per ora io non ho visto nessuno fino a che non lo vedo non credo quindi l'attaccante arriverà in base alle condizioni più favorevoli possibili e immaginabili non arriverà in base alla funzionalità perché se no questo l'avevano già preso siamo agosto ma di cosa vuoi ragionare dov'è il portiere dov'è l'attaccante dov'è il centrocampista al posto di brosovic centrocampo samaric qui non ne parlava nessuno io ho fatto un video 40 giorni fa vai a vedere ma non perché sono più bravo perché è un giocatore che seguo perché quei giocatori lì a me piacciono come orban in nigeriano l'attaccante ho fatto il suo nome due mesi fa feci un video poi l'ho rifatto una settimana fa poi quello copia quello quello copia quell'altro ma tanto è così youtube centrocampo dell'inter attenzione centrocampo al centrocampo dell'inter te puoi prendere anche samaric che è un grandissimo giocatore ma manca fisicità e interdizione all'inter mancherebbe un giocatore come che sì come anguisa perché quando sale il livello soprattutto in champions soprattutto con il 352 il centrocampo del 352 i champions spesso soffre quindi ti serve fisicità e l'inter non ce l'ha fisicità centro campo quindi con samaric fai un fai jackpot siamo d'accordo ma non mi dire che è completo perché il centrocampo dell'inter è tutto all'infuori che è completo serviva uno tipo milinkovic stavic per esempio quello è andato in arabia a prendere i sordi no capisci che ti voglio dire comunque ultime ore sommer dove sei sommer sommer si complica andate a vedere attaccante passa in pool scamarca io mi ci diverto io non lo faccio il calciomercato lo sapete però lo seguo perché mi diverte anzi io sono nel cuore a chi lo fa chi ha il coraggio di farlo perché è difficile indovinare te guarda il cazzate ti spara severino no che si spaccia da uno vicino all'inter ciao